buongiorno ragazzi buongiorno oggi altro giro in bici guardate un po dove sono scusate il fiatone ma la salita di cortona mi ha sinceramente provato anche perché c'è dei punti che c'è delle pendenze abbastanza repentine qui siamo cortona da qui si vede tutta la val di chiama addirittura si arriva a vedere monte amiata il lago trasimeno è uno dei borghi più belli d'italia questo in cina ragazzi non ce l'hanno ve lo dico in cina questa cosa qui non esiste tuteliamo le nostre cose perché quello che abbiamo noi in italia e soprattutto anche qui nella mia terra in toscana si vede in poche parti del mondo ciao ciao ragazzi ora rifiato un attimino